Il weekend di Francoforte entra nel vivo come ogni anno una grande affluenza, tantissimi curiosi attirati dalle particolari vetture che vengono esposte durante questa Kermesse. A presentare un prototipo è anche Diveler che è presente appunto con la sua Smart for Joy. La gioia e il piacere di salire a bordo dell'amata City Car si fa in quattro perché sono infatti quattro i posti disponibili a bordo, compreso ovviamente quello del guidatore. Una vera rivoluzione per questa super compatta che comunque non rinuncia a dimensioni minimal oltre che ad un design decisamente accattivante. A Diveler piace il nido d'ape, piace e infatti pare ormai consolidata l'idea di utilizzare una griglia traforata direttamente sulla lamiera, così come piace anche la forma quadrangolare dei fari e la discrezione per così dire invece delle luci posteriori che vanno a sparire nella cellula Tridion proprio come accadeva nella... Un'autogioiello, un'espressione...